I mini-reattori nucleari sarebbero dunque l'ultima novità dell'Unione Europea per produrre la cosiddetta energia pulita a basso costo. Il tutto mentre la questione del nucleare nel nostro paese, che già aveva creato non pochi problemi, continua a tenere banco. Nella ex centrale di Caorso si è concluso recentemente il quarto e ultimo trasporto con il quale sono rientrati dalla Slovacchia rifiuti inceneriti e ridotti. Si tratta di 100 manufatti contenenti residui del trattamento di 860 tonnellate di resine e fanghi radioattivi. Non solo, sono 51 le aree idonee in Italia a ospitare il deposito nazionale delle scorie del nucleare, dove saranno stoccati 78 mila metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media intensità e parcheggiati temporaneamente 17 mila ad alta intensità. L'idea è di farli più piccoli. Più piccoli vuol dire reattori che hanno quindi costi di gestione più bassi, quindi sono più appetibili per l'industria e sono anche reattori che dovrebbero provocare in caso di incidente un minor danno. In realtà ci sono diverse problematiche. Sono reattori piuttosto vecchi come concezione, perché è dagli anni 60 che vengono costruiti e finora hanno interessato soprattutto sommergibili nucleari che hanno necessità di avere piccoli reattori che possano fornire energia per molto tempo. costruirli su scala civile vorrebbe dire coinvolgere un territorio molto più ampio, ci sarebbero da controllare molti più siti nucleari e questo sappiamo che provocherebbe molti problemi, se non altro perché con un rischio maggiore che uno dei tanti reattori possa avere dei malfunzionamenti, in realtà la probabilità di incidenti sarebbe più grande. Anche a livello di costi ci sono molte problematiche perché sinora si è visto che questi reattori sono più costosi in quanto non possono sfruttare economie di scala. Infine i reattori attualmente in funzione di questo tipo sono solo quattro. Quattro vuol dire due in Russia, di cui uno molto simile soltanto su scala più ridotta, come ai reattori che c'erano a Chernobyl, un altro in Cina e un altro in India di cui non si sa niente. In definitiva questi reattori non danno garanzie attuali. Pensare di poterli usare per il clima, quando il clima ha bisogno di soluzioni adesso non è forse l'idea giusta.